Voglio che sappiate veramente che dimostreremo piena solidarietà verso l'Italia in questa lotta. L'Italia lo merita e se ci sarà bisogno di più denaro in alcune aree troveremo i fondi per garantire che l'Italia possa potenziare le proprie capacità in maniera più rapida, ripeto la prima, potenziare le capacità assieme all'Italia. Questo è necessario affrontare le radici profonde di questo fenomeno, dialogare con i Paesi di transito, di partenza, rafforzare anche le capacità della Guardia Costiera Libica, tutte misure queste che dovranno portare a un miglioramento della situazione. E concluderei dicendo che il momento è delicato e devo esprimere dunque ammirazione per la maniera in cui negli ultimi mesi ha agito l'Italia, grande ammirazione per la maniera in cui ha trovato soluzioni strutturali. E' una cosa che non succede da un giorno all'altro sicuramente, ma dobbiamo continuare a sostenere il governo italiano nei propri sforzi e ci saranno risultati sostenibili e di lungo corso anche per quanto riguarda le rotte del Mediterraneo. Il ministro Miniti sta facendo un ottimo lavoro, l'Italia merita la solidarietà di tutti gli Stati membri dunque, in particolare della Commissione europea.